Ora parliamo dell'alta velocità Torino-Lione sotto processo aperto a Torino alla fabbrica delle E il dibattimento del Tribunale Permanente dei Popoli sulla grande opera contestata linea ferroviaria ad alta velocità. I dieci giudici, giudici volontari, sono personalità italiane e straniere del mondo della cultura. Vediamo come è andata con Paolo Volpato. L'atto d'accusa è concentrato soprattutto sulla violazione dei diritti di informazione, di partecipazione delle comunità e dei popoli interessati alle decisioni che li riguardano. La TAV sotto accusa, seduta una volta tanto sul banco degli imputati, seppure di fronte al Tribunale Permanente dei Popoli, un Tribunale d'opinione che non emetterà nessuna sanzione concreta. Ma il processo è già una rivincita per i NOTAV. L'autorevolezza dei dieci giudici volontari, italiani e stranieri, che compongono il Collegio darà spessore alla sentenza. Ormai anche una serie di convenzioni internazionali, dalla convenzione di Arus in poi, prevedono il vero e proprio diritto dei cittadini di interloquire con le decisioni che li riguardano. A nostro avviso, ed è questo che segnaliamo qui, questo non è avvenuto. È la prima volta che il Tribunale Permanente dei Popoli si occupa di un caso italiano. La TAV è stata elevata a simbolo delle grandi opere che anche in altri paesi europei incontrano l'opposizione di popolazioni locali. È vero che la sentenza è nell'aria, ma delle forme i promotori hanno avuto cura. Sabato è la giornata riservata alla difesa. Si vedrà chi porterà in questa affollata aula le ragioni dell'imputato. Sentenza domenica.